A causa delle condizioni meteosfavorevoli l'evento del Paese dei Balocchi a Bellocchi di Fano è stato rimandato. Quali sono ora le nuove date e il programma della manifestazione? Sì, nuove date, chiaramente ci siamo fermati per la pioggia e il 21 recuperiamo le tre serate, quindi 21, 22, 23, mercoledì, giovedì e venerdì riprenderemo il Paese dei Balocchi. Chiaramente abbiamo lasciato l'architrave delle serate, c'è qualche piccola variazione dovuta alle persone che magari non potevano nella serata successiva, però l'architrave è salva e soprattutto da mercoledì si ricomincia con grande forza con il Ballo Liscio con Luca Berganini che è un'orchestra molto qualificata e soprattutto alle 23 di mercoledì, contrariamente agli anni precedenti, ci sarà lo spettacolo finale, virate coraggiose, spettacolo pirotecnico, musicale, parole, luci e soprattutto con le grandi fontane d'acqua per 14 metri di fontane d'acqua, quindi è uno spettacolo, direi, multisensoriale. E questo non conclude il Paese dei Balocchi ma è la festa di ripartenza, quindi mi raccomando a chi è interessato a questo spettacolo, lo spettacolo sarà mercoledì alle ore 23 e poi chiaramente la manifestazione non finisce ma continua il 22 e il 23, giovedì e venerdì. Quindi vi aspettiamo il 21 e il 22 e il 23, in tutte le sere ci saranno le attrazioni, ci saranno giochi, spettacoli, laboratori e tutto quanto era previsto originariamente nel Paese dei Balocchi 24. Grazie a tutti!